signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e sono terribilmente raffreddato quindi non vi preoccupate l'audio di questo video sarà peggiore del solito qualche settimana fa quando abbiamo parlato di nega dungeon ho detto che potenzialmente l'intera ambientazione potrebbe diventare un nega dungeon e che ne avremmo parlato poi in un altro video il video è questo il titolo del video l'avete visto questa settimana andiamo a parlare di misery crawl volendo potreste tradurlo come arrancare miseramente o semplicemente strisciare ed è quella particolare tipo di accadimento per cui una campagna ex crawl viene portata a un tale estremo di survivalismo per il party che nella pratica l'intera ambientazione è il nemico che il party deve sconfiggere misery crawl è uno di quei termini che molto spesso viene abusato e lo si sente molto spesso utilizzare per definire quelle campagne che il master ha impostato a un livello di difficoltà così alto da diventare fondamentalmente una tortura per i giocatori che vi prendono parte senza che la campagna abbia però in realtà nessun valore di intrattenimento ora sicuramente il misery crawl non è come il mega dungeon un tipo di esperienza ludica che possa andare bene per tutti francamente dubito esista un'esperienza ludica che possa andare bene per tutti ma nella pratica è semplicemente una campagna di esplorazione in cui si fa molto focus su elementi di sopravvivenza e approvvigionamento per quello che riguarda il party abbiamo già parlato a lungo di cosa sia una campagna ex crawl mal che vada vi lascio qua sopra un video però in tutti quegli esempi che abbiamo fatto abbiamo semplicemente detto che il party è libero di girare per la mappa di gioco creandosi liberamente le proprie avventure i conflitti quando presenti sarebbero arrivati come conseguenza dell'interazione del party col mondo di gioco e principalmente portati da forze esterne i giocatori dovevano fare attenzione ad attraversare la foresta perché ci vivono i banditi e magari dovevano avere molto tatto e diplomazia quando si avvicinavano alle terre al confine della malvagia baronia ma al di là di quello che i giocatori potevano effettivamente andarsi a cercare come problema il mondo di gioco sarebbe stato neutrale nei loro confronti e non avrebbero avuto particolari problemi semplicemente a vivere in quel mondo che fosse un fantasy fantascienza avventura urbana quello che è il mondo di gioco per i giocatori fondamentalmente era più che confortevole anzi talmente confortevole che girare per il mondo era proprio il principale motore di gioco che spingeva i personaggi a esplorare la mappa e trovare avventure un misery crawl si basa su una premessa totalmente antitetica il mondo di gioco non è un posto dove i giocatori viaggiano per trovare cose interessanti da fare il mondo di gioco è un ambiente estremamente ostile a cui i giocatori devono sopravvivere come abbiamo detto per il nega dungeon il misery crawl non è il posto dove gli eroi vengono forgiati e i personaggi trovano la gloria è un posto squallido in cui delle persone riescono a sopravvivere nonostante l'ambientazione la sopravvivenza è proprio il tema centrale che rende una campagna misery crawl quello che è di per sé questo tipo di storie non sono legate a un ambiente a un genere preciso ma devono svolgersi in un ambiente che renda coerente il fatto che una campagna misery crawl non è una campagna in cui gli eroi girano per le terre a raddrizzare i torti esplorare dungeon e trovare potenti armi magiche ma che siano un gruppo di disperati che debbano sforzarsi per riuscire a mangiare almeno tre o quattro volte a settimana e se sono fortunati riusciranno a trovare delle lamiere che martellate assieme gli garantiranno un'arma almeno nominalmente funzionale a voler parlare in maniera tecnica diciamo proprio che il motore delle avventure non dovrebbe essere più di tanto legato a la scoperta o l'eroismo ma proprio alla sopravvivenza quello che spinge i personaggi a girare per l'ambientazione e proprio trovare cibo riparo è il minimo indispensabile per poter continuare ad andare avanti ovviamente questo non vuol dire che non ci sia niente da fare anzi gli eroi magari non aiuteranno gli abitanti del villaggio per via dei loro nobili ideali ma li aiuteranno perché così gli abitanti del villaggio gli offriranno magari un posto dove riprosare per qualche giorno gratuitamente e non andranno a esplorare il dungeon in cerca di fantastici tesori ma lo faranno in cerca di provviste che gli permettano di vivere ancora un'altra settimana va da sé che non tutti i regolamenti sono adatti a gestire un misery crawl per quanto non esista nessun regolamento specifico l'idea comunque che il regolamento deve non solo contenere un sistema per la gestione delle risorse ma deve essere anche strutturato proprio perché i personaggi devono avere la possibilità di fallire nell'impresa detto in parole semplici un regolamento in cui non è previsto che i personaggi possano morire probabilmente non fa al caso vostro non è neanche legato così fondamentalmente a qualche tipo di tema o di ambientazione o di universo narrativo anche se il master deve comunque fare attenzione a scegliere un ambiente di gioco che giustifichi perché il mondo sia così letale per i giocatori per questo motivo il misery crawl è praticamente sempre ambientato in qualche tipo di luogo estremo e scarsamente civilizzato fitte giungle primordiali piene di bestie feroci e umanoidi cannibali lande ghiacciate dove una persona senza protezione può sopravvivere solo pochi minuti o al contrario deserti talmente torridi che trovare acqua è effettivamente un'impresa questi sono i luoghi dove si ambienta il misery crawl però non fatevi limitare solo dal clima o dalla geografia gli sterminati bassi fondi senza legge della megalopoli del futuro dove le forze dell'ordine hanno del tutto rinunciato a far anche solo una parvenza di legalità controllate da bande di cyber fanatici assassini sono un ambiente sufficientemente ostile perché una campagna ambientata lì possa essere definita un misery crawl allo stesso modo il misery crawl non è neanche legato a uno specifico genere narrativo potrebbe essere un fantasy in cui i giocatori devono mandare i loro personaggi a esplorare le terre selvagge e sopravvivere a bestie feroci bande di umanoidi malvagi e stregoni pazzi nelle loro torri di roccate come potrebbe essere un'ambientazione di fantascienza in cui i giocatori esplorano i mondi dell'orlo della galassia e devono sopravvivere a imboscate di pirati alieni ostili cercando di rubare in giro quel minimo di risorse per mantenere in volo a loro astronave per via del fatto che ci sono molti temi in comune tra i due generi c'è però una prevalenza di misery crawl ambientati all'interno di mondi o di ambienti di gioco post apocalittici che si tratti del fantasy dopo la catastrofe magica di dark sun o alcune zone di eberon a catastrofi molto più mondane come il crollo e la civiltà di mad max che ha portato ai tecno barbari diesel punk o all'atom punk retro futuristico di fallout durante i loro viaggi attraverso apocalipsia i giocatori potrebbero trovare anche i resti dell'antica civiltà per inserire temi di malinconia per quello che è andato perduto e anche molto più banalmente trovare antichi tesori che per loro potrebbero avere valore inestinamabile magari non denaro e gioielli che a loro non servono niente ma nell'antica rovina potrebbero trovare un grosso coltello da cucina che creato grazie a tecniche oramai andate perdute come la lavorazione dell'acciaio per loro potrebbe essere un oggetto da un potere da un valore inestimabile a questo punto è possibile che qualcuno di voi si stia chiedendo perché qualcuno vorrebbe partecipare a un'avventura del genere se il mondo di gioco è un ambiente così schifoso che senso ha andarci dentro in realtà un misery crawl potrebbe anche avere alcuni aspetti che lo rendono persino migliore rispetto a una campagna più tradizionale da ambientarsi all'interno di un ex crawl primo fra tutti è che la sopravvivenza e il successo del party dipendono praticamente esclusivamente dalla loro stessa intraprendenza in un misery crawl anche solo avere la pancia piena ed essere in possesso di un equipaggiamento a malapena decente è già un'enorme impresa se in un'ambientazione più classica gli eroi vanno all'avventura perché vogliono ma in realtà probabilmente con tutto il tesoro gli equipaggiamenti che hanno potrebbero benissimo ritirarsi e vivere nel lusso chi gioca all'interno di un misery crawl deve continuare ad andare avanti è già solo il fatto che sia sopravvissuto un'altra giornata all'interno dell'ambientazione dimostra la sua estrema determinazione se in un'ambientazione classica gli eroi devono andare a cercare le loro grandi imprese in un misery crawl semplicemente il fatto di sopravvivere è un'impresa sufficientemente epica paradossalmente questo può portare anche i personaggi a essere più avventurosi e anche a rischiare molto di più rispetto ai loro equivalenti in un'ambientazione tradizionale in un mondo tradizionale gli eroi devono avere un buon motivo per andare a rischiare la loro vita nel dungeon e sicuramente oggetti a ricchezza lo sono ma c'è da valutare se non rischiano di perdere più di quello che potrebbero guadagnarci ma in un misery crawl la vita è talmente pericolosa e rischiosa che a questo punto è comunque meglio morire combattendo contro i mostri del dungeon che farlo perché si sono finite le provviste mentre si è intrappolati dentro una capanna di fango un altro possibile appeal del misery crawl ma in realtà delle ambientazioni distrofiche in generale è quello che posti così deprimenti e pericolosi in realtà non hanno praticamente una morale questo vuole dire che i giocatori di un misery crawl non solo creano da sé le proprie avventure ma non hanno nessuno a cui rispondere delle loro azioni questo da una parte può essere interessante per qualcuno perché davvero può giocare portando l'avventura a un livello di cinismo esasperante ma anche al contrario è molto facile per il paladino essere legale buono e diffondere nobili ideali quando è al caldo con la pancia piena ma il personaggio che riesca effettivamente a mantenere la propria morale in un'ambientazione dove tutto sembra essere concepito per fargliela perdere probabilmente è molto più eroico inutile dire che dal punto di vista del master il principale vantaggio è quello che una volta creata l'ambientazione e messoci dentro il party fondamentalmente non si dovrà fare altro per mettere in moto l'azione in una quest tradizionale il master dovrebbe lanciare ganci narrativi o cercare di affascinare i giocatori con descrizioni interessanti per mettere in moto il party ma in un misery crawl al master basta dire ai giocatori che avete solo più due giorni provviste prima di morire di fame per vedere il party diventare incredibilmente intraprendente ovviamente come nel caso del mega dungeon questa non deve diventare una scusa per il master per mettere i giocatori in situazioni in cui non possono fare nulla o che siano pensate semplicemente per farli perdere ma questo è veramente un discorso lungo e mi sa che anche è arrivato il momento di intraprenderlo ma non lo faremo oggi adesso devo mettere ancora in chiaro le idee ma probabilmente molto presto probabilmente già settimana prossima vedrete un video specifico a riguardo per questo video invece è tutto come sempre adesso la parola sta a voi ditemi se avete mai portato al tavolo un misery crawl o se vi avete partecipato come master e come siete sopravvissuti e soprattutto come non siete sopravvissuti se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco da gruppo di telegram dove io metto le notifiche manualmente e trovate anche il resto alla community del master CAE io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao